Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi siamo al sesto appuntamento con Punch Club. La volta scorsa abbiamo subito qualche danno di troppo, ma fortunatamente abbiamo scoperto il dottore che ci ha dato una grandissima mano e abbiamo recuperato la piena forma fisica. Allora, ora vediamo come siamo messi con i combattimenti. Tra due giorni abbiamo la lega e per ora quelli clandestini magari li evitiamo per non farci massacrare. Allora, io direi di farlo allenare, perché siamo messi veramente male. E allora, ci alleniamo un poco a casa, così non spendiamo neanche soldi. Ovvero che comunque non siamo messi male sul lato economico, 154 dollari. Non sono malvaggi. E allora, abbiamo pure 5 punti esperienza, ce ne manca uno per poter fare il salto. Quindi io direi di andare dalla palestra, eccola qua, da silver, andiamo a piedi e facciamo un allenamento. Combattimento ad allenamento, 20, così prendiamo pure un poco di esperienza. Ok, mettiamo anziché salta gli attacchi il pugno in alto, così magari prendiamo un pochettino più di esperienza. Queste parti, come sempre, le accelero. Round 2, vediamo un po' come mettiamo la pedata a posto di questo di qua del calcio basso, perfetto. Eh, addirittura l'abbiamo buttata a terra, ragazzi. Andiamo migliorando. Ok, win. Dammi l'esperienza, mi perfetto, 3 punti di esperienza. Vediamo un attimo le statistiche. Eh, bene o male. Siamo lì. Ok, allora, apriamo il quadro abilità. E l'altro giorno mi sono accorto che avevo sbagliato, ragazzi, perché praticamente salta gli attacchi. Non va a sbloccare poi le altre, quindi per forza il pugno in alto lo dobbiamo sbloccare. Perché come vedete va a continuare poi con le altre abilità disponibili. Corridore e poi tutte le altre montante, già l'abbiamo sbloccato e queste due ancora sono da sbloccare. Perfetto. Va benissimo così. Io direi di cibo 22, quindi andiamo a mangiare qualcosa, magari ci prendiamo una pizza. Ok, caffetteria. Che parolosamente fa pure la pizza, ma ci sta. E allora, ordino una pizza, prendiamo questa di qua, che va benissimo, ne prendiamo due. Perfetto. Diamo uno sguardo al calendario. Ah, tra due giorni, va bene. E allora, senti che fai. Te ne vai a muratore, che recuperiamo un po' di soldi. Se gli vai a piedi, così tanto... Ok, inizia. Così nel frattempo scorrono i giorni. E però, ci alleniamo con la scusa. Non ti bloccare, grazie. Ho aggiornato Steam e... Inizia a dare qualche segno di squilibrio, però... Speriamo bene, ragazzi. Io sono speranzoso. Ok, fermati. Perché se no, le energie se ne vanno a quel paese. Torna a casa. Lessi. Ok, riposati un cicinnino. Ok, svegliati. Tis, svegliati. Appo, ucciso. È un po' duro d'orecchio, ragazzi. E allora, combatti. Questo misca sette. All'anima. Sette in resistenza. Quindi, dobbiamo mettere qualcosina di incisivo, almeno per l'inizio. Io direi, mettiamoci questo e spacchiamo le gambe. E mettiamo anche una schivata, una parata. Perché se no, praticamente, ne massacra direttamente. Ok, speriamo bene. Diciamo che mi dovrei allenare molto di più. Quindi, penso che il prossimo episodio lo dedicherò proprio all'allenamento. Ignorando magari qualche combattimento. Però, dobbiamo concentrarci più sulla forma fisica. Perché per ora siamo abbastanza scarsi, devo dire. Questo finisce e mi massacra. Siamo finiti pure al tappeto, ragazzi. Questa è persa, persa, persa. Infatti, vaffanculo. Ok, ci ha devastato. Con tutto ciò abbiamo preso 3 di esperienza. Ci ha pure leggermente ferito, ragazzi. Meno 60. Con tutto ciò l'umore è contento. Non stai programmando bene? Quanto dovresti? Adesso potete iniziarti un po'. Eh, infatti. Sarebbe un animale, ma la magia non esiste, sai? Ah, se vuoi chiamare la magia, io la chiamo scienza. Se ti interessa puoi incontrare il negozio di articoli sportivi. Lì ti informerà dei dettagli. Oh, finalmente, cavolo. E allora, andiamo al cavolo di negozio sportivo. Che finalmente possiamo amparci qualche cosa. Per potenziarci, appunto. Nientitore di Elisir. Ah, addirittura. Quindi abbiamo pure le droghe, ragazzi. Sei tu il tizio che fai i trucchi di magia? Eh, dammi un po' di nendroloni, dai. Magia? No, no, no. È scienza. Io preparo degli Elisir che possono renderti più forte, più veloce e più resistente. Insomma, tipo fantozzi quando fai il ciclista, boh, 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 vabbè. Lì per parlare scantinato tu mi sembri abbastanza stupido e coraggioso. È interessante. Certo, e lì ci sono alcuni effetti collaterali, ovviamente, ma nulla di grave. È sicuramente nulla che possa fermare un ragazzo coraggioso come te. Ma più di morire, diciamo, non puoi fare. Vabbè, vediamo invece di parlare con Mastrolindo. Vecchia panca. 250, mortacci su. Particolamente non posso comprare niente, però mi interesserebbe comprare il Pungible. Quindi, facciamo una cosa. Andiamo a lavorare. Ok, spostamento a piedi e rischiamo sempre alla grandissima. Guadagniamo il giusto, magari qualcosina pure di extra per poter poi comprare qualcosa da mangiare. Va bene. Ok, torna al negozio di articoli sportivi. E riparliamo con Mastrolindo in arte gym. Ok, dammi questo, che comunque ci va a potenziare semplicemente. Cosa ci va a potenziare? La velocità? Vabbè, però, non sarebbe male. Dovrebbe essere forse l'agilità. Ogni volta mi dimessi l'agilità, perfetto. Allora, vediamo questi Elisir di questo qua. Elisir Blu aumenta temporaneamente l'agilità, aumenta temporaneamente la forza, aumenta temporaneamente la resistenza. Questi sarebbero buoni. Prima del combattimento. Ma io me ne prendo uno della forza. Ok. L'agilità è aumentata come per magia. È praticamente una pratica pericolosa. Va bene. Ah, dura due giorni. Caspita, a saperlo lo compravo. Vaffanculo. Vabbè. Iscriviti tra due giorni. È giusto il tempo per fare fine le riserve. Vaffanculo. E allora, torniamo a casa con le pile nel sacco. Mi diceva la canzone. Cosa? Ancora con la valigetta senza infastidirmi. Questa è quella famosa che ci segnala quando c'è qualcuno in pericolo. E allora, se ci vai ti dico grazie. Vabbè, non ci vuoi andare? Ok, perfetto. Si è buggato il gioco? Ottimo. Proviamo a uscire e rientrare. Salve e chiudi. Gioca. Il simbolino è rinasto là. Bellissimo. Caricamenti in corso. Oh, ancora questa valigetta. Bellissimo se la serie si conclude così. È stupendo. Ah, perfetto. Va bene. Articoli sportivi. C'è un'emergenza e il nostro eroe corre subito. Ehi doc, mi sembri giù di corda. È già, solo problemi di vita. Sento puzza di crimine. Esatto, come hai fatto a capirlo, qualcuno ha rubato il mio laser. Hai chiamato la polizia che potrebbe cadere così in basso da rubare uno scienziato? Non lo so, mia madre mi ha detto di aver visto alcuni tizi usare maschere di animali. E torna sempre. La banda degli animali. Non voglio sapere mettere un laser nel mio scantinato. Mi sembra logico. Non c'è sembra molto sospetto. Nel frattempo si è attaccata la ventola del notebook. Saluto sempre Nvidia per questa scheda di me. E allora, va bene, abbiamo perso tempo qua. Il combattimento è sempre tra due giorni. Noi abbiamo ancora Vigorello, diciamo. È la pianta della città. Vigorello è bellissima, ragazzi. Chi se lo ricorda? Il film di Thomas Millian. Vabbè, bombolo. Che è questo? Vigorello. Che vanna scommete? M'ho convoluto di Vigorello e faccio il culo come l'ombrello. Miau. Di solito... Sto facendo baccano. Che c'è il gatto? Episodio del gatto, ragazzi. Va bene, abbiamo accarezzato il gatto. Vediamo se abbiamo una cosa da mangiare, ma mi ricordo di no. E infatti il tuo frigo è vuoto. Perché fare la spesa ci fa schifo. E allora, mangiate la pizza. Ordi una pizza. Mangiatene due, come sempre. Ormai siamo affezionati. E direi che ti puoi andare a riposare. Ok. Bene, ragazzi. Io direi che questo episodio si può concludere qui. Abbiamo visto l'effetto di Vigorello, che dura giusto due giorni. E quindi per il torneo non l'avrò a disposizione. Anche se comunque è domani. Va bene. E niente, ragazzi. Quindi ci vediamo in un prossimo episodio di Punch Club. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e condividerlo nei vostri social. Ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao.